La prefettura di Savona, attenzione, la prefettura di Savona, la prefettura di Milano, cambio. Sì, buonasera a tutti, dalla prefettura di Savona, Italia 1, Giulietti, Giulio Vittorio, 1, GV, operatore delio, Delta, Eco, Lima, India, Oscar. Allora, per il dipartimento 5-9, per la nave militare 5-9 più 20. Per Giannino, 5-9 più 20. Per Siena, 5-9 più 20. Per Caltanisetta, 5-9 più 20. Vi sento veramente bene. Per Milano. Sì, perfetto, mi passi anche a posto per me, per la prefettura di Milano, grazie. 5-9 più 10, 5-9 più 10. Per Siena, per la prefettura di Savona, Italia 1, Giulietti, Giulio Vittorio, hai passato da 5-9 al dipartimento di protezione, 5-9 più 20 all'onario militare, 5-9 più 20 alla prefettura di Varese, 5-9 più 20 alla prefettura di Siena, 5-9 più 20 alla prefettura di Caltanisetta. La portata per te è 5-9, che ti ringrazio e buona serata. Chiamata per la prefettura di Pisa, attenzione, prefettura di Pisa, prefettura di Milano, Italia 2, ecco, whisky, ex, cambio. Indio 25, Altra, Oscar Salgo, dalla prefettura di Pisa, operatore Roberto, ripeto, Roberto. Questi segnali per la protezione civile 5-9, per l'utilitare 5-9, per Italia 2, Radio 4, Vittor 5-9 più 20, e per l'Una Italia 5-GDQ, 5-9 più 20, 5-9 più 20 per i titoli in un giro del radio. Sì, perfetto, Italia, il terminato, vi manca soltanto il prefetto, grazie. Italia, whisky 5, Altra, Oscar Salgo, WSL? WSL, Italia, whisky 5, Altra, Oscar Salgo, mi passi il rapporto anche a me, grazie. 5-9 più 20. 5-9 più 20, bellissimo, allora, prefettura di Pisa, Italia, whisky 5, Altra, Oscar Salgo, Roberto, hai passato 5-9 al Dipartimento di Protezione Civile, 5-9 alla nave militare, 5-9 alla prefettura di Varese, 5-9 più 20 alla prefettura di Siene, 5-9 più 20 alla prefettura di Ciazza Visetta. Il rapporto per te è 5-9, grazie e buonasera. Allora, chiamate dalla prefettura di Lucca, attenzione alla prefettura di Lucca, dalla prefettura di Milano, cambio. WSL, prende la prefettura di Lucca, operatore Jacopo, Italia, chilo 5, Alfa, Mike, Bravo. Il K5, Alfa, Mike, Bravo, Jacopo, passi i rapporti per il Dipartimento di Protezione Civile, 5-8, per la nave militare Sirio, 5-9, per Giannino Avalese, 5-9 più, lo stesso per Siena e lo stesso per Catanissetta. E per te capomaglia, 5-9 più, ha parlato il K5, Alfa, Mike, Bravo, operatore Jacopo, della prefettura di Lucca. WSL, professore, prefettura di Lucca, Italia, chilo 5, Alfa, Mike, Bravo, Jacopo, hai passato 5-8 al Dipartimento di Protezione Civile, 5-9 alla nave militare, 5-9 più alla prefettura di Varese, 5-9 più alla prefettura di Siena, 5-9 più alla prefettura di Catanissetta e 5-9 più a me, la prefettura di Milano. Il rapporto per te è 5-9 più 10, molto bene. Perfetto, grazie a te, buona serata. Ho la chiamata dalla prefettura di Milano, Italia, Zulu, Eco, Whisky, Exery, la chiamata dalla prefettura di Macerata. Attenzione, prefettura di Macerata, cambio. Si risponde la IK-6, India, Sirofo Rochami, operatore Giuliano, dalla prefettura di Macerata. Perfetto, passo subito ai rapporti. Dipartimento della protezione civile, 5-9, nave militare, 5-7, valese, 5-9, Siena, 5-9 più alla prefettura di Milano, e Catanissetta, 5-9 più. Luigiano, 5-9. Si, perfetto, Macerata, mi passi il rapporto, grazie, come mi ricevi? Si, 5-9 più... In profonda scala, ragazza. Va bene, prefettura di Macerata, perfetto, Italia, chilometro 6, India, Sirofo Rochami, Giuliano, è passato 5-9 al dipartimento di protezione civile, 5-7 all'area militare, 5-9 alla prefettura di Varese, 5-9 più alla prefettura di Siena, 5-9 più alla prefettura di Catanissetta, 5-9 più alla prefettura di Milano, qui modulato. Perfetto, ti ringrazio, buona serata e alle prossime. Chiamata dalla prefettura di Milano per la prefettura di Chieti. Attenzione, Chieti da Milano, cambio. Giamino, non lo sento, eh? Non lo sento io, no. Giamino, non lo sento io, no. Giamino, non lo sento io, ma non lo sento io, non lo sento io, ma lo sento io. QSL e Italia Whisky 5, Altra Whisky Canada, Giacomo, faccio io da questa è papa da Varese, qui Italia 2, Roma, Golfo e Vittoria e questa è papa per Milano. abbiamo passato il rapporto a 12.000 e 5.7 a nave militare 5.9 a me 5.9 a Siena 5.9 più 20 e a Caltanissetta 5.9 più 10 per te il rapporto è un po' basso appena appena 5.5 forse la propagazione non è delle migliori verso di te vai avanti Corradino K rifatti il nominativo Giannino Italia Whisky 6 Alpa Whisky Canada da Giacomo vado avanti allora perfetto buonasera anche all'Italia Whisky 6 Papa Whisky Charlie allora dalla chiamata il prefettura di Milano fa chiamata per la prefettura di Teramo attenzione Teramo dalla prefettura di Milano cambio sì buonasera guardatevi taglia più 2 con scrive x-ray per te 5.9 20 poi c'è per l'amico di Milano che è la professione civile 5.9 poi c'è per la nave 5.9 per la prefettura di Teramo per la prefettura di Teramo per la prefettura di Teramo dal dipartimento di Teramo dal dipartimento di protezione civile 5.9 alla nave militare 5.9 più 20 alla prefettura di Varese 5.9 più 20 alla prefettura di Siena 5.9 più 20 a Castanissette 5.9 più 10 a Mert ti ringrazio buonasera alle prossime allora chiamate dalla prefettura di Milano per la prefettura di Ancona attenzione prefettura di Ancona prefettura di Milano cambio seconda chiamata per la prefettura di Ancona dalla prefettura di Milano senti che lo chiamo io prefettura di Ancona la Italia 2 Roma goltre vittorio in questa settimana ci sei? niente vai avanti affetto allora chiamata per il centro radiomobile di Roma attenzione CRMO di Roma dalla prefettura di Milano Italia 2 con Whisky e cambio buonasera corradino dalla Italia Kilo 0 Mike Hotel Whisky operatore Angelo CRMO Ciampino Roma faccio i rapporti dipartimento protezione civile 5.8 nave militare tirio 5.9 Giannino Varese 5.9 20 e Gianpietro Siena 5.9 10 Alessandro Calpanissetta 5.9 10 5.9 5.9 5.9 10 a te Italia 2 2 ecco Whisky 3 dalla Italia Kilo 0 Michael del Washington Perfetto 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 Angelo Italia Kilo 0 Michael Terwinski arrivi molto bene qua a Milano hai passato 5.8 al dipartimento di protezione civile 5.9 alla nave militare 5.9 9.20 molto bene buonasera grazie allora chiamata dalla prefettura di Milano Italia Zulu 2 ecco Whisky X richiama la prefettura di Frosinone attenzione professore Frosinone dalla prefettura di Milano cambio buonasera a tutti da Italia a Zerlanda 0 Charlie Giuliette Quebec Giuseppe in nome allora per il divartimento Italia 0 in India 5.9 nave Sirio 5.9 Italia 2 RGV 5.9 20 Italia 5 Golf Victor Quebec 5.9 20 tutti 9 Inchi Hotel Radio 5.9 10 per Milano 5.9 addenti a trasmesso internazio da 0 Charlie Giuliette e Giuseppe da Frosinone perfetto Giuseppe prefettura di Frosinone Italia L'U0 Charlie Giuliette Quebec operatore Giuseppe hai passato 5.9 al dipartimento 5.9 a Militare 5.9 più lente a Varese 5.9 più lente alla prefettura di Fiena 5.9 Giunici alla prefettura di Casta Lisette e 5.9 più Giuseppe il rapporto per te 5.9 più 10 ti ringrazio buona serata buona continuazione Giambino taglio 2 Aves Givir cambio per te qui da Milano protettore Milano Italia 2 Eco Whiskey Exo K con questa propagazione quasi quasi tra i tuoi 10 prefetture a Marcello per la Varese Marcello mi ascolti K Marcello te la senti di chiamare se hai qualche prefettura te la senti come vi ho fatto finora te la senti Alessandro Riggio eh Ruggolo il l'avessi che ho ricevuto che lo benissimo quello di Milano 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 Marcello no scusami dovresti continuare da Caserta Isernia Oristano e Sassari sul cuore fare queste quattro prefetture vuoi chiamare te Marcello K Danilo scegli l'altra dove maglia Alessandro puoi spiegare a te che magari ti sente meglio no no ho detto che scegli un'altra capomaglia quindi vorrebbe passare allora va bene ho capito ho capito va bene dai alla prossima allora va benissimo che andiamo avanti qui così che c'è nella nota scusami Alessandro tocca a te adesso vai chi è chi chiama qualche prefettura di protezione civile 5-9-12 per la nave militare 5-9-12 per la rete 5-9-30 per la nave militare 5-9-13 per la nave militare 5-9-13 5-9-13 per la nave militare 5-9-13 per la nave militare 5-9-13 per la nave militare per la nave militare grazie allora per i controlli passiamo alla prefettura di caltenissetta prefettura di infernia ieri ieri assenti per problemi tecnici e l'antenna va avanti capo giro fortunato allora diamo passi prefettura di oristano dalla prefettura di caltenissetta 6-9-Yenchi hotel radio buonasera dalla prefettura di oristano operanza dalla miglia schiena 0-Charlie hotel Mike Giorgio ok parte del rapporto interventi battimento di protezione civile Italia 0-1-12 5-8 per la nave militare miglia Alfa Dragoli Massiglio Marcello 5-9-13 per Valente Italia 2 Giorgio 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 5-9-13 per Siena Italia 5 Giorgio 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 5-9-13 per tecnici allestando il testo di Italia taglio nuovo per ieri per ieri 5-9-13 sempre allora guardiamo saluto dalla prefettura di Elisano oltre Italia Giorgio Giorgio buona serata e buon segnamento 6-9-Ienchi oltre radio seconda chiamata prefettura Cassari negativo andiamo avanti questa di Coracea Geremia di Barletta Italia 07-7-MQR ci sei? Sì buonasera da Barletta quindi Italia 07-November QM-Cromeo Geremia da Barletta allora passo i rapporti per quanto riguarda quindi la protezione civile abbiamo 4-9 molto disturbata la nave la nave militare 5-9-Più Giannino Varese quindi 5-9-Più Siena 5-9-Più Calcani più Siena 5-9-Più Calcani 5-9-Più ottima la missione il cambio per la prefettura di Boggio prefettura Calcani 7 prefettura prefettura Boggio alla prefettura Calcani 7 assente allora andiamo avanti con la prefettura di Bari prefettura Bari prefettura Calcani 7 buonasera Alessandro questa è Italia Zelanda 7 Eco Canada Lima operatore Tommaso ripeto Italia Zelanda 7 Eco Canada Lima Tommaso inizia a posare i rapporti dipartimento protezione civile 5-9-10 nave militare Sirio 5-9-10 Varese 5-9-20 prefettura di Siena 5-9-20 Saltanisette 5-9-20 Italia Tagonova Ienchi Oterradio Italia Zelanda 7 Eco Canada Lima Tommaso dalla prefettura di Bari Tommaso arrivi stupendamente bene sia come intensità che come modulazione complimenti Italia Zulu 7 Eco Charlie Lima 5-9-10 passato al dipartimento 5-9-10 la nave militare 5-9-20 a Barese 5-9-20 Siena 5-9-20 per me ricambio 5-9-20 con un'ottima emissione il cambio per Matera prefettura Matera prefettura Castanissette Siena Siena con la prefettura di Matera in fondo Italia Riffi Tommaso A Papparmi Tommaso operatore dietro vedete il 26-7 A Papparmi Tommaso 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-10 5-9-10 5-9-10 per me Rapporto per te 5-8 grazie dietro allora prefettura di Vipo Valencia dalla prefettura di Caltanissette 29 degli Enchi o delle radio 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 a Papparmi a Papparmi 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 6-9-20 6-9-20 6-9-20 6-9-20 6-9-20 6-9-20 6-9-20 7-9-20 molto bene Domenico Italia 2-8 bravo Alfa Delta dalla prefettura di Vipo Valencia qua Italia Tango 9 dei Enchi Hotel e Radio Domenico ha passato 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 5-9-20 6-9-20 Grazie Domenico attenzione prefettura Lecce e prefettura Caltanissette chissà 3-2-2-3-2-2-2-3-2-3-5-4-4-4-4-2-3-60 4-5-4-2-1-2-1-2-2-3-2-3-4-5-6-4-8-0-3-3-4-5-4-4-2-4-3-7-1-8-2-8-5-4-1-1-3-2-4-7-1-4-8-5-6- grazie a tutti